Ciao ragazzi, Stefano Timolina, ovviamente sempre l'amministratore del gruppo ST e come sapete io sono sempre solito a darvi consigli anche nel mondo dello spettacolo, ma oggi non voglio darvelo io il consiglio, voglio farvelo dare da un professionista del nostro settore, ecco qua Enrico Beruschi. Ciao, sono lo zio Enrico, non studiate, ma cosa ne frega, ma divertitevi, non studiate, e poi dopo che vi dà da lavorare, scemi, studiate, non studiate, non studiate, non